Buongiorno, siamo allo stand di Dr. Wine Collection alla Vin Italy Special Edition 2021. Qui con noi abbiamo Chiara Lugarotti, titolare della stanza più conosciuta del Luglia, anzi che per anni ha significato vino uro in Italia e del mondo. Quello che ha fatto conoscere Luglia e Viniglia? Il Rubesco e la sua versione riserva provenienti dalla vigna Monticchio hanno sicuramente fatto conoscere, hanno contribuito moltissimo per conoscere l'Umbria del mondo. Ma l'Umbria è conosciuta non solo per i suoi grandi rossi ma anche per i bianchi. E quei bianchi stanno uscendo fuori un po' di più, diciamo, di lecenti in confronto. Nel senso che quando si parla di Umbria si parla di Torgiano con i suoi sanguigese o eventualmente della zona di Monte Falco con i sagrantini. Ma i bianchi sono in realtà altrettanto interessanti. Sono interessantissimi sia non solo nelle zone di Torgiano e di Monte Falco ma un po' in tutta l'Umbria. Anche considerando che noi siamo una terra in mezzo tra le Marche e la Toscana e quindi riusciamo veramente a esprimere le potenzialità di un territorio avvocato anche per varietà bianche. Non solo le varietà autottone come il Grichetto o il Trebbiano Spoletino ma anche varietà che ormai si hanno trovato un loro habitat felice nella nostra regione come il Permentino o varietà internazionali. Ad esempio il nostro dottore Togiano, che è il bianco di Torgiano, sia nella versione base che in quella riserva dove i uve provengono da un vigneto particolare che si chiama Vigna e il Vino esprime veramente quell'equilibrio e al tempo stesso quella concentrazione di al naso e uoca la chimica dei liquidi, dei liquidi del nostro territorio. Un'automia così morbida, un'automia così morbida, così rotonde, la stessa morbidenza che si trova anche nel nostro piano. Grazie Stefano.